e benvenuti benvenuti nel video che forse aspettavo più di fare durante tutto quest'anno veramente confrontò nel 2021 fine 2021 a dire la verità ma così hanno avuto il tempo di avere un po di aggiornamenti software stiamo parlando di galaxy s 20 plus versus galaxy s 21 ultra ragazzi lo sapete già prima di tutto mi raccomando un bel like un commento se vi è piaciuto il video a fine video e soprattutto iscrivetevi al canale attivate la campanellina che è importantissimo se volete vedere altri confronti come questi magari con s 20 versus s 10 s 21 versus s 10 fatemelo sapere mi raccomando allora che cosa abbiamo qui abbiamo appunto s 21 versus s 20 abbiamo questo è un confronto esclusivamente fotografico farò un altro confronto specifico per quanto riguarda i video sia di giorno che di notte qui vedremo sia foto diurne che notturne partiamo con la fotocamera normale fotocamera principale abbiamo un sensore da 12 megapixel contro un sensore da 108 megapixel ma che fa pixel binning e scatta anch'esso a 12 ls ls 21 ultra chiaramente scatta a 12 le differenze principali come possiamo già vedere da questo primo scatto sono nei colori colori tendenzialmente più naturali molto meglio molto più fedeli scusate rispetto all s 20 plus al vecchio aggiornamento di c'è la vecchia fotocamera di samsung appunto sono più fedeli quelli del del s 21 altro obiettivo fotocamera grandangolare qui abbiamo uno 0.5 per scusate nel nel s 20 pass e uno 0.6 per cosa vuol dire semplicemente come potete ben vedere l'angolo è più ridotto sul sul s 21 ma è anche migliorato diciamo la 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 qualità del dell'obiettivo molto molto semplicemente come vedremo anche poi nel prossimo video con in con i video in modalità notturna che sono il diciamo il modo migliore per andare a vedere la vera qualità di un di un sensore cioè senza che il software ci lavori troppo sulla sulla immagine anche in questo caso colori molto più fedeli molto più naturali se pur sparati se pur samsung comunque abbiamo una migliore gestione per quanto riguarda le ombre del del s 20 pass come vedete qui vicino sotto al muretto appunto una migliore gestione delle delle ombre dell s 20 plus ma appunto colori più naturali come ho già detto prima per quanto riguarda l'esse ls 21 anche in questo caso non che ci interessi molto nel per la camera grandangolare o meglio in questo caso il dettaglio è leggermente superiore per quanto riguarda s 21 plus ovviamente sono entrambi sensori da 12 megapixel con la differenza che però non ho fatto la prova perché ovviamente non c'è confronto ls 21 ultra può fare fotografie macro come avete visto nel confronto che vi lascio qua in alto con l'iphone 13 pro max 13 pro scusate ma passiamo allo zoom lo zoom che ovviamente è il cavallo di battaglia dells 21 ultra abbiamo un teleobiettivo 3 per quindi ingrandimento 3 per contro un diciamo un teleobiettivo che ha da 64 megapixel che fa uno zoom in vibrato per quanto riguarda ls 20 plus ovvero lo il teleobiettivo è 1.1 per ottico più interpolazione 64 megapixel come potete vedere non non c'è molto punto non c'è molto paragone e ovviamente più dettagliata la foto dells 21 ultra seppur sembra diciamo un po meglio gestita anche in questo caso per quanto riguarda le ombre quella del dells 20 passo ovviamente le foto le state vedendo anche in in sovraimpressione anche in questo caso ovviamente a maggior ragione il cavallo di battaglia dells 21 ultra come sappiamo è lo zoom lo zoom in particolare in questo caso è 10 per quindi il teleobiettivo più diciamo più potente che abbiamo sulls 21 ultra contro quello che appunto è sempre un'interpolazione digitale dells 20 plus non vale neanche la pena diciamo spendere troppe parole quello che è importante notare come potete vedere in questo caso si vede la la differenza fra un'interpolazione digitale di uno zoom e lo zoom ottico ovvero la sfocatura di questo rametto perché questo rametto in questo caso è completamente a fuoco come se fosse sullo stesso piano della dell'edificio mentre per quanto riguarda ls 21 abbiamo la sfocatura perché appunto si è via una cioè con l'obiettivo ottico si riesce appunto a differenziare i piani ed è un effetto veramente molto molto bello che si può appunto notare nelle nelle fotografie scattate con questo tipo di zoom vi lascio il mio proprio instagram in descrizione andate a vedere perché veramente ci sono degli scatti veramente veramente interessanti con questo tipo di zoom allora questa è la mia faccia questi sono selfie non sto a girare i telefoni tanto non le state vedendo in punto di sovrimpressione poco da dire nel senso che si vede anche attraverso la fotocamera che ls 21 ultra anche in questo caso è superiore nettamente ed è uno tra i migliori probabilmente a fare selfie sul mercato poiché comunque ha oltre al fatto che ottiene ottimi risultati come vedete molto più slavati i colori nel s20 plus eccetera abbiamo proprio una migliore qualità e soprattutto un dettaglio maggiore perché banalmente scatta a 40 megapixel quindi c'è scusate ha un sensore a 40 megapixel che scatta col pixel binning a 10 ma anche volendo a risoluzione completa quindi selfie a 40 megapixel molto interessanti soprattutto i video con la camera anteriore ma quella questa è un'altra storia questa ve l'ho messa perché è interessante è una funzionalità che hanno appunto gli ultimi gli ultimi Samsung ma anche i vari A i vari M insomma ovvero utilizzare la risoluzione piena la risoluzione massima del sensore fotografico principale o insomma quello che ha la risoluzione massima perché nel caso dells 20 come dicevo prima è il 64 megapixel telefoto ad avere la risoluzione massimo quindi abbiamo 64 megapixel e un 108 megapixel sono entrambi foto entrambe foto molto molto pesanti qui la differenza è molto meno marcata se non appunto che è leggermente più zoomata quella dells 20 come normale che sia e generalmente comunque la qualità è secondo me ancora una volta superiore per quanto riguarda ls 21 ultra lo so che vi sembrano banalità vi sembreranno banalità ma vi assicuro che tra poco non sarà più così ed ecco il perché dico questo allora per quanto riguarda la modalità notturna queste sono scattate con scattate su un cavalletto quindi senza nessun tipo diciamo di interferenza mettiamola così dal punto di vista uno si muove di più uno si muove di meno io ho mosso troppo le mani non è successo non è non ci sono questo tipo di interferenze hanno deciso di scattare entrambi per 28 secondi quindi se mettete sul cavalletto impostate su max appunto la modalità notturna loro scattano per questo tempo per tutto questo tempo è normale dire che così a primo impatto diciamo la la foto migliore sia quella del galaxy s 21 ultra perché appunto è appunto senza zoomare a primo primo impatto è più luminosa e diciamo gratifica l'occhio seppur appunto in realtà è molto più naturale quella dells 20 plus nonostante delle tendenze un po gialline come vedete le tonalità molto molto tendenti al giallo che è una cosa che molto caratterizza molto come vedrete la ls 20 plus è vero io sinceramente preferisco quella dells 21 ultra ma non è assoluta non è diciamo la più accurata ecco mettiamola così però appunto fino a questo punto tutto bene qui secondo me cominciamo già ad avere dei problemi nel senso che comunque la grande angolare seppur sia migliorata non è assolutamente all'altezza di della concorrenza per quanto riguarda ls 21 ultra fa meglio ma poco secondo me rispetto alls 20 plus in questo caso abbiamo sempre tonalità molto gialle che penalizzano tanto ls 20 che in realtà farebbe anche veramente degli ottimi scatti allora questo vabbè è uno zoom ma in realtà ho deciso di non mettervela in sovrimpressione perché non ha senso hanno scattato entrambi col sensore principale poiché in modalità notturno entrambi non non vanno utilizzare il sensore teleobiettivo perché è troppo buio banalmente quindi non ha senso diciamo di essere paragonata allora in questo caso è vero nel senso che diciamo la all'apparenza possiamo dire che quella del dells diciamo dells 20 plus è più naturale anche in questo caso come vedete si sono un po invertiti i ruoli non tutti fanno diciamo più foto naturali ls 21 ultra più di giorno ls 20 pass più di notte è più dettagliata in questo canchi in questo caso molto più dettagliata la foto dells 21 ultra ma appunto non è così netta la preferenza ad esempio appunto a livello per esempio banalmente una dovessi postarla sui social posterei quella dells 20 plus perché è più come dire appunto naturale più non lo so mi secondo me risulta meglio lasciamo stare il fatto che guardassi da un'altra parte ma il suono vi assicuro sono fatti nello stesso momento uno dei motivi però per cui ls 21 è così luminosa che praticamente lui quando vede buio diciamo scatta una specie di flash che appunto illuminazione dello schermo dello schermo appunto per la per la fotocamera anteriore quindi uno dei motivi per cui è venuta così così luminosa allora abbiamo finito ma torniamo un attimo su questa immagine per favore allora vi lascio con questa immagine ora guardate attentamente facciamo un gioco semplicemente ditevi se vi provate a pensare a dire quale avendo visto questo video delle due foto da quale dei due telefoni è stata scattata ora quando tra 3 2 1 vedrete il appunto adesso vedete il il testo con la soluzione del dilemma sinceramente non c'è paragone cosa vuol dire non c'è paragone ls 21 ultra come vi ho accennato di giorno ha un'appetita di dettaglio davvero davvero notevole per dire notevole diciamo notevole nel senso che davvero non c'è confronto se andiamo a zoomare in modalità notturna e ve le faccio vedere adesso direttamente dai dispositivi ok se andiamo a zoomare in modalità notturna non c'è paragone a livello di dettaglio ovvero con s20 plus ovvero che ls 20 plus è molto e decisamente superiore per quanto riguarda il livello di dettaglio guardate ancora una volta guardatelo meglio qua come mai per via del pixel pixel binning lui scatta a 12 megapixel e scatta a 12 megapixel con sensore principale punto lui scatta 108 deve combinare insieme è vero che il risultato è molto più luminoso ma andiamo a perdere tantissimo dettaglio è una cosa che mi ha dato veramente veramente fastidio avere un dispositivo nuovo top di gamma elogiato da tutti ma come è possibile che nessuno dica che se andiamo a leggermente anche solo zoomare leggermente si nota già una notevole differenza guardate anche il tetto guardate le tegole che differenza ci c'è tra le tra le due foto non a mio parere non è accettabile una cosa del genere è l'unico letteralmente l'unico difetto che ha ls 21 ultra nelle foto notturne io spero che vi sia piaciuto spero che vi siate divertiti con me assolutamente aspettatemi aspettatevi l'arrivo del prossimo video mi raccomando buona serata ciao buona giornata